Passata pochi minuti fa in Consiglio la delibera di maggioranza, Sessore Colantonio, per la vendita di un'area di edilizia popolare di via per popoli, questa eventuale vendita che potrebbe produrre fondi da inserire poi in bilancio. Sì, è un atto obbligatorio per la formazione del bilancio di previsione, nel quale un atto diviene quello dell'alienazione degli immobili, un atto diviene quello della formazione di un'area da individuare per gli insediamenti di edilizia residenziale pubblica o in alternativa per gli insediamenti di attività produttive o terziario qualora la stessa area venga posta in vendita. L'area è stata valutata dall'ufficio tecnico comunale e una volta effettuata con un atto di consiglio la volontà di volerla alienare viene posta in vendita al libero mercato e qualora qualcuno sia interessato può acquistarla. Come amministrazione comunale voi avete individuato diverse aree poi da porre in vendita? No, ci sono dei beni da alienare ma quello è un atto a parte che viene presentato, fa parte del pacchetto che riguarda il bilancio di previsione e c'è il piano di alienazione immobiliare che presenta una sorta di pacchetto immobiliare che riguarda terreni, fabbricati, aree dismesse e anche una serie di situazioni patrimoniali che vengono poste in vendita al libero mercato. Viene fatto un bando pubblico, un bando che viene pubblicizzato e qualsiasi cittadino può concorrere all'acquisto.